Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui su un altro video di Resistenza a 5 Stelle fatto da Redsmoke, bella Siamo solo noi due oggi a parlare Il Nabbo vuole fare una cosa strana Va bene, allora, e allora, vogliamo dire una cosa importantissima subito Ha sentito poco il trucco dei soldi, eh No, prima si danno i soldi, è tipo miliardi di soldi Ah, quando finisci il gioco ti danno tipo 15 milioni Vabbè, e d'ora in poi abbiamo deciso tutti che faremo più o meno due video alla settimana Perché è troppo impegnativo fare un video al giorno Cioè non ce la facciamo più, cioè io non ce la faccio più perché li facevo tutti io Quindi, vabbè Allora, di cosa hai fatto? Vabbè, all'inizio da quel che ho visto hai picchiato un po' di persone con il manganello Sì, poi ho cominciato a lanciare granate, come adesso Ehm, poi ho cominciato a sparare con l'RPG e da lì non mi ha fermato più nessuno Vabbè, come vedrete questo video è senza webcam perché non abbiamo il tempo di fare webcam Ah, l'elico, quanto sei? Altre stelle, ah Non abbiamo il tempo perché, ehm, il smoke tra un po' se ne deve andare Quindi, è RPG adesso No, più avanti No, 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 dice di alzare il volume, non ti preoccupare, faccio dopo Allora, ai prossimi video, allora avremo un video dove un Bertignao cazzeggia il cellulare che vibra Dove un Bertignao cazzeggia con i petardi Non si sa Ehm, poi abbiamo sempre quel video di, del pollo su GTA Che va a Forza Uncure se non sbaglio Prende il caccia, giusto? Sì Eh Ehm Poi cosa abbiamo? Ah, il video di FIFA che, il che Babbaro stasera caricherà Dice Dice di caricare, non lo so Dica, dica C'è la madre di, di Red Smoke che, che c'è a testa al telefono Vabbè, ci becchiamo dopo, bella Eccomi qui tornato, oggi come dice, vabbè adesso Red Smoke se ne è andato Ehm, cosa dire Allora, acido Consigliateci, magari per il futuro Dei posti dove fare queste cose Vabbè, ovviamente se mi piace la serie E, diteci se, se, vabbè, ovviamente se mi piace la serie E dei posti dove non arrivino nemici da dietro Perché, mh, si è trovato in difficoltà Non lo so, e mi ha detto di dire questa cosa, non so perché Ehm, poi Allora, come lo scorso video All'inizio è stato a 4 stelle Da quello che vedo E poi al 5 o il contrario Boh, non lo so Suona il telefono Suona il telefono e ne ho già risposto Ok Ehm, è qua Sta uscendo un po' di persone Non so cosa sta succedendo Eh, non so più che dire ragazzi Siamo neanche a metà video E non so che dire Ve l'ho già detto che il Kebabaro Caricherà un video di, sì, di FIFA Eh, però quel video Era fatto su FIFA 13 E adesso abbiamo comprato FIFA 14 Credo che rinizieremo la serie Non lo so Ah, poi A proposito della serie Super Meat Boy Che io tratto Ehm, cioè io non riesco più Andare avanti di livello E ho scoperto che Il pollo è molto bravo Perché tipo in un giorno è riuscito ad arrivare al quarto mondo Ehm, quindi penso che la continuerà lui Io farò un po' di chezzeggio E roba varia Poi, vabbè Aspetterà Molti di voi aspetteranno COD Allora COD c'è il Nabbo Che è molto, molto, molto Cioè no, moltissimo È bravo Ah, MV3 Vabbè, a COD in generale Mv3 Proprio Specializzato Ehm Poi chi ci sta Eh, sì Ehm, però per adesso Quando riusciremo Aspetta Ah, no Pensavo che mia madre fosse arrivata Scusate Ehm Quando riusciremo ad avere un PVR Un Easy Cup Solo per noi Perché per chi non lo sapesse Red Smoke Up è da lontano da noi E quindi non è che Possiamo ogni giorno Prestarci Cioè Non è che ce lo può prestare Ogni giorno Ehm Quindi Cioè per portarvi dei video Di qualità Su Mv No, sì Su Mv3 O su COD in generale Serve l'Easy Cup Ecco Qua è morto Massacrato Per portare Stavo dicendo Per portarvi dei video Di qualità Eh Su COD Come voi preferirete Ehm Ci avvaleremo Dell'Easy Cup Ehm Questo è tutto Questo è quanto Adesso Farà un po' Di casino Per prendere Un po' Di stelle No Penso di sì Perché mi abbandonano sempre I momenti più difficili Non so perché Ah poi abbiamo fatto Una serie Sdrogo Con Umberto Inao Ma che cos'è La motostrega Ah no Una mitragliatrice Oddio Ehm Una serie Abbiamo iniziato a fare una parte Di serie su GTA Sdrogo Tipo Cazzeggio Ehm Che pubblicheremo Tra qualche giorno Perché non so Come avrete Come Come vi ho detto prima Caricheremo Due video a settimana Questo Questo è il primo Facciamo Perché Parfacciamo che domenica È il primo giorno Della settimana Come fanno tipo Gli inglesi O gli americani Non mi ricordo Che sono dei due Ehm Che dire Il Kebabbaro Si sta per fare la play Quindi Potremmo magari Fare dei video da soli Senza incontrarci Perché allora Per chi non lo sapesse Io Allora io Il pollo Il nabbo E Alessandro Minecraft Come lo volete chiamare Abbiamo tutti i vicini Invece il Kebabbaro Ehm E Redsmoke Abitano più lontani da noi Quindi Lontani Perché non è tanto lontano Però Non è che si può sempre Fare Cioè Non è che possiamo sempre vederci Perché tra lo studio E tutte queste cose Non è che si può sempre fare E poi qua Fa un altro po' di casino Arriva a 4 stelle Non so se arriva a 5 Perché io questo video Non l'ho mai visto Nessuno l'ha mai visto Perché mi aveva dato la pennetta Andrea E Però non l'ho mai visto Perché me l'ha dato tipo Una settimana fa Ma a me non andava di registrare Cioè Nessuno Cioè nessuno Nessuno vi andava Perché sto Non mi attivo io Per fare video Nessuno Non vi offendete Non vi offendete Non vi preoccupate Allora questo è il video Vabbè vi lascio un po' di Di tempo senza di me Nel video Non credo vi offendiate No Un minuto senza di me Sì Vabbè E questo era il video Vabbè questo era tutto Bella Grazie a tutti Grazie.